Stiamo contemporaneamente a questa prima iniziativa di sciopero, abbiamo richiesto la convocazione urgente nel tavolo dell'unità di crisi della regione alla presenza di Gianfranco Simoncini. Siamo sempre stati in ottimi rapporti perché via via ci siamo visti per monitorare con la regione la situazione della Simpsi. Oggettivamente quest'ultimo periodo ci trova un attimino sconcertati, non ce l'aspettavamo perché il calo degli ordini non si spiega come ho detto, non si spiega, non comprendiamo, non capiamo perché. Contemporaneamente chiediamo cosa vogliamo fare, cosa vuole fare la proprietà per ovviare a questa situazione perché se non c'è un piano strategico l'azienda muore.